Questa vittoria di ieri sera giustamente i ragazzi l'hanno dedicata al pubblico perché credo che comunque veramente ieri a Firenze abbiamo dato anche una lezione di tifo mai un'offesa all'avversario, un continuo tifo per i nostri ragazzi. Questi ragazzi si sono sentiti dei leoni in campo e hanno aggredito sportivamente Firenze e abbiamo vinto questa partita fin dall'inizio. Una vittoria che vale più di tante altre, quella portata a casa dall'AMNBC Servizi Arezzo che spugna Firenze e si regala la salvezza con due mesi di anticipo. La squadra di coach evangelisti torna a vincere in trasferta nella gara più importante contro la Cantini-Lorano-Legnai a Firenze, 68 a 58. A favore degli Amaranto il punteggio finale si festeggia la salvezza senza passare dai play-out. La formula prevedeva infatti che l'ottava classificata alla fine della prima fase cogliesse la salvezza e potesse partecipare al girone che comunque alle prime due dà anche la possibilità di fare pre-off promozioni. È stata veramente una partita molto intensa, credo che i ragazzi hanno vinto con un grandissimo cuore perché già si era visto in casa con Empoli la determinazione con cui hanno cercato questo risultato se lo sono preso con grande voglia di vincere. Siamo tornati con lo spirito dello scorso anno e veramente bisogna fare i complimenti a tutti, allo staff tecnico, a tutti i ragazzi e anche al nostro pubblico perché ieri veramente a Firenze c'è stato un grande sostegno da parte dei nostri tifosi. In un pala filarate da sold out l'inizio gara è stato a favore dei padroni di casa. L'Arezzo dopo un'iniziale fatica comincia a rosicchiare punti ed è Toia per gli Amaranto a firmare il primo pareggio a quota 25. Sempre una perla di Toia consente all'AMNBC Servizi di andare negli spogliatoi sul 32 a 29. Al rientro i ragazzi di coach evangelisti partono con l'acceleratore premuto. Due triple di Toia e Zocca lanciano gli Amaranto a più 10. Alla terza sirena è ancora Toia ad investire il canestro che tiene la SBA avanti di 6 lunghezze. I minuti finali si preannunciano incandescenti e non tradiscono le aspettative. A 6 minuti dalla fine i ragazzi di evangelisti sono ancora più 9. Firenze ha poi un sussulto con Cherubini che segna 5 punti in fila. Il tempo scorre. L'AMNBC Servizi è aggressiva concedendo solo tiri sporchi agli avversari. Ancora Zocca da 3 punti esalta il quintetto di coach evangelisti che vede avvicinarsi lo striscione del traguardo. I ragazzi Amaranto tengono duro in difesa e non sbagliano dalla lunetta con Rossi che segna gli ultimi 4 punti che fissano il risultato finale sul 68-58. Sulla sirena può scattare la festa di squadra e del pubblico Amaranto per un risultato straordinario ottenuto con grandi sacrifici da parte di tutti. Onestamente crediamo molto su questo progetto. Andiamo avanti su quest'idea. Vediamo se riusciamo a trovare una mano per fare qualcosa di più. Aller, 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 aller.